ciao a tutti si è partita davvero non lo aspettavo ok quindi cominciamo a fare questo fantastico livello qui io sono eduardo di nuovo che male il mio gomito che in realtà è il ginocchio che dolore ok ah questo forse l'avevamo già fatto una volta comunque è epico si evviva jimmy anche il modo in cui tu muori no perchè questo è spazio non ci vedo ah forse questo si forse l'avevamo già fatto una volta jimmy come soffri wow sono morto no sono ancora vivo guarda le gambe ok sto morto mischio lilla vola ciao mischio la ho un vetro nel collo ho un vetro nel collo ma sono vivo ho un vetro nel collo e ho un vetro nel collo ho un vetro nel collo e ho un vetro nel collo ok questo è difficile perchè c'è sono già alcuni partiti ma non è normale perchè sono pazzi oh bombine fast veloce si fast veloce ganga ohia ok 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 ehm devo uccidere il sonno che sarebbe moglie ma vuole him? no grazie no prendo io sarebbe rotucolatini che cosa è sonno? sennò sonno vabbè esiste sarà qualcosa? no ama ama ma no l'ama ama hai figlio non è sonno ok allora questo è un bellino l'ama l'ama come sono? ok vabbè vabbè felice e leggo spenn yahoo ehm panno sì sì vabbè regalo sì e vai dad , vabbè ok dimmi momento don't kill me scegli la tua morte questo qui forse lo già fatto no che come sono qui scegli la tua morte scegli la tua morte c'è un'altra morte cioè si urdad poi vai o caspita che cavolo hai fatto tutto la rata 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 c'è certo che sei manco sono grandissima e pare c'è il show giordano poi non è andata bene nell'angelo non avrò solo scegliamo la sua morte su che ho questo l'avevo già fatto no allora sarà la morte numero uno no jimmy da doveva che va a giù continuano ci credo ma è questo qui in realtà non l'avevo mai fatto c'è dopo tutto il casino siamo ancora vivo e però hai le braccia è forte un gallato il mur frullato è un gang murder non è un gang murder no 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 sì vittoria lo scompa di morire certo prendiamo il jet si avviva il jet lo prendo l'ho preso ok l'ho preso adesso adesso non ti lascerò mai ecco non vorrei piaccia all'occhi per te la casa applicata di fare il tipo così di appenderlo ho preso no è molto bene come fate a prenderlo e dici di sopra un po cosa sta lecchando dei problemi la ragazza non può rincarare a ingiati in faccio ora però sta sta funzionando io non ci credo ed è presto ok dici di sovarsene se ne fai ti fa una cosa di così lì ma no si è staccato con l'altro braccio non ci credo e cosa si è toccato la gamba con l'altro braccio si è attaccato a qualcosa ok adesso no credo l'ho preso si è toccato la gamba con l'ho aperto ok basta ma è stato epico questo qui ma è vero qui tataratata tatarata tatarata tatatata 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 è una macchina oltre che una ferraria e poi ha il trampolino sono bravissimo oltre che sembra minecraft oltre che sembra al clean racing comunque forse no no è al clean racing la nostra sia quello che volevo tenere se mica peraltro vai 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 non ti pennare e vola ok pensavo volasse davvero cosa stai facendo veramente pensavo che volasse sì che si è fatto sì così anche in me ci manca la benzina da clean racing un brobro certo che se parti le gambe così e le scarpe è che se non ti piace il guarda come sta guidando con il piede sulla schiena non ti piaceva il tipo di scatto potevi comprare un altro non c'era bisogno di staccarti il piede si però guarda si sta tenendo il piede sulla squadra ha fatto un corso di guida particolare grande auto che ho vinto madonna che best che bestia visto visto c'è minecraft di amont che pronuncia impeccabile inizio al rai a non c'è nessun diamo dei amori di cerchiamo non c'è nessun del mondo che ho anche avrei ritranno e non è che si bella la red sono fatta bene ai cubi se è ricco ora che la cagata secondo devo fare testa e troppo epico poi lo ma stai scherzando avrei visto guarda magari si sapeva sì ecco calma di attore rompito con la testa rompito con la testa non riesco a prenderli e poi il carbone fatto davvero benissimo frutto a così a random si basta che mandi qualcosa nella lava quindi per buttarti anche nella lava che vinci a sì sì ok ok 1 ma lo sono anche toccando 3 peccorino uno piccone di diamante ci metti più di un piccone di legno di usato a cosa che fare così puoi fare di tutto mi pare di aver capito puoi anche cercare di romperlo col manico non con loro e quello che vuoi fare io ma non riesco a prenderlo si è mosso un pochino sembra un dicapato che ha rotto ecco qui non ci credo ecco col manico l'ha rotto zombie scari o mi piace la spada di diamante magari anche con il non ci credo ok uno bisogna tirare dei pugni ah lo smash e vai prendi sta cosa ma non parte tienila è perché se tu non la prendi e 2 va tienila un attimo prendila ecco basta ah non succede nulla mi butto giù da solo se ti la faccio non ce la faccio ah non ce la faccio mi dice che a che livello q? q x q d quattro che cos'è è un l'egoista l'egoista è il protagonista l'egoista 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 che è l'egoista oh ma dai come costruire la torta un trucco dei quattro mandela raffinato mandela raffinato da quattro palos mandela sei stata quattro non so che cosa sia è quattro palos si comunque era se stiamo messo a quattro ah perché devi indovinare sono domande relative a aspetta canta mandela e non sappiamo quanto ma che noi stiamo ole era il centro vabbè simpatico con lo sparafresh con l'arco x x x x quell'arco x is no arco x x x x x x x d ole oh che bella casa gli zombie ti entrano come niente cioè poi non ha la parete oh no pollino questo è un insulto ai polli è vero non sono così sì sinceramente sono così voglio dire dai i polli si fanno calpestare e da quando l'acqua si muove in minecraft? e da quando non ne fallerà un livello innocuo e riesce a morire posso salirci po' sui fiori da quando ci sono i fiori in minecraft? beh sì ci sono ma non so dovrebbero essere quadrati e soprattutto i polli si muovono davvero ole ui miniera del ferro prendi oddio no l'arenaria no non la devi prendere oltre che quella è sabbia no se no sarebbe caduta no la giocata io e poi caduta ecco è andato oh madonna ok pollostami prima ti ho massacrato ma non l'ho fatto a posto poi l'assassino di cacca oh carp oh carp oh occhio occhio oh madonna questa volta mi vuole bene una volta si e una volta no chi può dire ok che l'hanno devo toccare però in tonia se fosse sabbia sarebbe giocato no no in minecraft non è certo che succede che c'è un bug oddio amico uno zombie molto pericoloso ma è più pericoloso il pollo è vero si vola creeper sto per scoppiare sto per scoppiare veramente wow ecco questo livello lo voglio finire e beh iniziamo bene va ma quando è tipo a spaccare la finestra no perché devi distruggere il creato aspetta che non hai neanche una word lì una word lì no non ce l'ho una word lì no lo dè insomma si chiama ma che caspita c'è dai non lo so il ballerino uia pensavi che mi uccidessero ma ti sei seduto ok adesso lo zombie di tiro si sarebbe già dovuto spaccare la cervicale sto qua la dorsale guarda che con chi disinvoltura prende le testate grandiose becchetti con i coglioni oh che robata madonna questo è meglio del wrestling ragazzi ok adesso rimane il creeper e poi passiamo a vedere per il resto ce la possiamo fare facile saltalo devi saltarlo e prima ma vedi la testa cosa ha fatto c'è è perduto il dido eh il dido neanche è pericoloso olè e si benissimo ok voglio vedere il creeper che è troppo epito no vabbè ragazzi ciao ci vediamo al prossimo episodio stop non Grazie a tutti